Capone, mio nonno avvolto nel suo ferraiolo, riceveva le onde nella schiena, le onde regolari della radio. Chiedeva al figlio che si infervorava del gran conflitto tra DC e PC, ma quel suo occhio disilluso e lento più si accordava ad anonime voci e al tonfo dello sterco della mucca, e dopo brevi comandi otteneva ancora l'oro della stracciatella. Già sesannesco, imminenti gli amici della partita a carte, e c'era uno che dichiarava di voler morire per troppa pelle di Capone l'esso.